Arriveranno circa 15 milioni di euro di finanziamenti statali per il secondo e terzo lotto necessari per la sostituzione della condotta idrica ammalorata del Faraone da Rocca Gloriosa a Castellabate. Fortunatamente è stato stigmatizzato il rischio di perdere questa opportunità per un errore commesso dal LEIC, l'ente idrico campano, che lo scorso 15 settembre inviò una documentazione in formato non corretto ad Arera, l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente. Infatti LEIC non seguì la procedura corretta, omettendo di inviare le schede tecniche nel formato richiesto e inoltrando i progetti in un formato errato, tanto che Arera li rigettò. Successivamente il senatore Francesco Castiello chiese chiarimenti affinché si potesse rientrare nel finanziamento e dopo qualche mese Arera ha risposto, affermando che nonostante il vizio formale, il progetto sarebbe stato comunque preso in considerazione, data la gravità della crisi idrica nel nostro territorio, ormai ben nota negli uffici romani. La notizia è stata confermata anche da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sicché si può stare tranquilli. La condotta del Faraone, in quanto adduttrice e avvalenza turistica, ha un valore strategico prioritario con diritto di precedenza nella missione al finanziamento. Pertanto si continua a lottare per dotare il territorio dell'acqua pura della sorgente del Faraone, sicché l'acqua clorata degli invasi artificiali sia soltanto una fonte di approvvigionamento sussidiaria ed eccezionale.